Durante la giornata di ieri il noto artista Anuel AA si è esibito a Milano al Social Music City Generalmente a questi eventi si vede un pubblico nel backstage composto quasi unicamente da trapper Ma, ciao ma, a questo giro c'è stata una guest star a sorpresa, ovvero TaylorMega Che appunto era nel backstage di questo evento insieme all'Alza, Enzo Dong e Junior Kelly C'è anche una scena in cui TaylorMega twerca addosso a Enzo Dong, ovviamente per scherzare sottolineamolo Quindi che dire ragazzi, non aggiungo altro, mi lascio a tutto quanto il materiale Dato che questi quattro personaggi non sono praticamente mai visti insieme prima di questo episodio Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio E' chill Oh bravo Oh bravo L'anfocco Oye issa Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi.